Complimenti perché sono doverosi per una squadra che ha controllato la partita per 90 minuti, ha concesso poco o nulla e ha creato tanto. Tre punti importanti, impreziositi dai risultati che sono arrivati dagli altri campi. Ma non è che noi anche tre giorni fa abbiamo fatto una partita buona, perché non è che in tre giorni si cambia chissà che cosa. Evidentemente la squadra sta bene, sta bene stasera, starà bene anche tre giorni prima, però stasera abbiamo fatto bene nei movimenti davanti. E questa è la differenza, siamo stati più mobili, siamo stati più incisivi, abbiamo dato meno punto di riferimento e poi la nostra predisposizione è sempre al gioco e quindi abbiamo creato, costruito. Se davanti non fai la partita, se ti muovi poco o perché l'avversario non ti lascia spazi, devi essere bravo a trovarti. E' soltanto qui la differenza. Allora io le faccio due considerazioni su questa differenza. Quale cosa è stato più importante? Una Vispesaro che lasciava più spazi, era meno arroccata della Fermana o anche la scelta di Zappella dall'inizio che ha permesso di spingere di più lì e Clemenza doveva centrarsi? Mentre forse con la Fermana Clemenza doveva agire più sulla fascia e l'ha fatto poco. Allora, vi spiego una cosa. Se incontri una squadra come la Fermana che gioca per il doppio risultato e si mette lì con una difesa schierata sempre a 5, non articola mai il gioco, butta sempre la palla avanti, gioco forza, ti allunga in campo. Una squadra che cerca di vincere la partita e si ritrova contro una squadra che gioca a 40-50 metri, gioco forza per alcuni istanti, di partita ti allunghi. Non siamo stati bravi davanti nel trovarci gli spazi. Ma perché? Ma no perché non siamo bravi, perché non siamo stati mobili tutto qua. Le facciamo una notazione particolare per Zappella perché dicevo con Matteassi poco fa è partito da esterno a destra, poi ha fatto la mezzala con l'infortunio di Pontisso, poi al posto di Veroli a sinistra e ha chiuso da esterno offensivo. Quattro ruoli più il gol, glielo diciamo bravo. Ma certo che lo sta facendo bene Zappella, bravo, ma lui può interpretare tante cose. Chiaramente non è un attaccante, è stata una necessità. In quel momento la partita come si sviluppava andava benissimo per le sue gambe e per il fatto che poteva sfruttare spazi. Quindi ha fatto bene, va bene, ma Zappella è un giocatore importante. Grudi fuori dall'inizio, riposo dopo tante giornate, è un regalo di compleanno che ieri ha festeggiato Iano. Era un po' stanco, tanti erano un po' stanchi. Veroli ha finito con un problema agli adduttori, pompetti pure. Pompetti ha chiesto il cam, ma perché quattro partite in dodici giorni sono tanti per chiunque, figuriamoci in serie C. Adesso c'è bisogno soltanto 48 ore di recuperare, questi soprattutto che hanno giocato quattro partite. Però abbiamo dei giocatori come Ilanes, come Ingrossa, che hanno fatto una partita sul piano difensivo per Entoria. Le chiedo un'ultima cosa, prima delle domande di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi da studio. E io la domanda che le voglio fare, Auteri, è riferita proprio a questo centrocampo a tre. Perché dopo la partita di Reggio Emilia, da quando ha scelto di far giocare i tre centrocampisti contemporaneamente, se è vero che con la fermana ha creato poco per i motivi che diceva lei poco fa, è altresì vero che il Pescara non ha mai più subito da qui alla fine se andrà avanti così, infortuni permettendo? Ma non è che ancora la storia dei due centrocampisti vuole interpretare così, pensate quello che volete. Non è così. Un dato, dai, un dato oggettivo. Ma i dati non sono oggettivi. Non è quello il problema. Il problema è sempre legato. Possiamo fare tante cose, stasera l'abbiamo dimostrato, ma l'abbiamo dimostrato altre volte. Ci sono dei giocatori duttili, poi lavoriamo in sintonia. Oggi abbiamo giocato così, ultimamente abbiamo giocato così, ma il motivo l'ho spiegato, perché in alcuni ruoli sugli esterni non siamo come dovremmo essere. Tutto qui. Io aspetto sempre la crescita, ma nel frattempo sta finendo anche il campionato, quindi è il dovere dell'allenatore valorizzare le risorse migliori. Siccome con un po' di presunzione le idee ce le abbiamo e le sappiamo trasmettere, possiamo anche cambiare il modo di stare in campo, ma la faccia è sempre quella. Non so se è una bocciatura a Rasienzita, però domande da studio. Una sola. Se è una bocciatura, loro lo sanno. Sì, salutiamo intanto il tecnico, i complimenti per la vittoria. La domanda è da parte di Fabio Ferraresi. No, io al mister, innanzitutto complimenti per la vittoria di stasera. Volevo chiederle, in virtù del cambio di modulo che ha appena adottato, se magari in qualche partita, specialmente in casa, con squadre arroccate tipo Fermana, potremmo vedere qualche volta, magari nel ruolo di trequartista, uno tra Ferrari e Cernigoe e quindi giocare con il doppio centro avanti. Potrebbe essere anche questo un'opzione o è impossibile? Non lo so, non lo so. Questo dipende dalle partite. Il doppio centro avanti, due così, intasano solo gli spazi. Nessuno dei due è trequartista, quindi... Una dursi dietro. Non lo so, un po' difficile, vedremo. Poi di volta in volta troveremo le soluzioni più adatte. Però grazie Ferraresi. Lei fa delle domande più semplici rispetto a quelle che fa. Poi io già me ne aspetto una, mamma mia, difficilissima da parte di Profeta. Vai Massimo. No, assolutamente. Io, mister, mi fa sorridere e ha questa grande capacità. Intanto i complimenti perché oggi ho visto veramente una buona squadra. Io sono molto sincero e l'obiettivo, dal mio punto di vista ci mancherebbe, quando c'è da rivolgere qualche critica, si può anche fare senza urtare la suscettibilità di nessuno. L'unica cosa a questo punto sono 16 i punti conquistati del giorno di ritorno. Come nelle prime nove del giorno di andata. Insomma, adesso bisogna cambiare passo. Ma noi stiamo bene, quindi continuiamo a giocare, continuiamo a fare quello che abbiamo fatto stasera e che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. A parte alcune eccezioni, soprattutto tipo la partita alla Reggiana, i cui motivi, i cui problemi sono stati quelli di termo, la poca mobilità in avanti. Se noi abbiamo idee, stiamo bene dal punto di vista fisico, ora recupereremo. Abbiamo giocatori in grande sintonia, lavoriamo con grande attaccamento e con grande senso di responsabilità. Abbiamo tante buone cose. No, io lo dicevo per rispettare... No, le dicevo questo perché... No, ma non lo so, ma gli obiettivi noi ce li poniamo, ma noi li vorremmo vincere tutti. Io manco lo so quanti punti abbiamo fatto a ritorno, all'andata. All'andata in questo periodo, ho capito, pure l'avi speso, ci ha fatto due e due, voglio dire, senza praticamente ma tirare in porto con dei legali, vabbè. Quello è il periodo dei rigori, ma non mi fate tornare indietro che tanto non serve. Possiamo fare una cosa in chiusura. Infatti volevamo guardare avanti, mister. Non lo stavamo guardando indietro. Io sorrido sempre, ogni tanto voi... Mi fate incazzare, però io sorrido lo stesso. Mi fate incazzare un sogno.